Buongiorno a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati. Parliamo di uno degli artefici delle due scorse stagioni, parliamo di Stefano Pioli, il nostro allenatore, la nostra guida, il nostro punto di riferimento. Stefano Pioli che ha un contratto con il Milan in scadenza al 30 giugno 2022 e il Milan in queste prossime settimane incontrerà il suo entourage, l'entourage di Stefano Pioli per ribadire la volontà di continuare insieme perché la volontà comune è quella di continuare questo percorso, iniziato due stagioni fa, insieme per riportare e continuare a crescere insieme. Quindi Stefano Pioli consolidarsi come uno dei migliori allenatori in Italia e si spera anche in Europa e il Milan continuare a crescere, quindi l'anno scorso siamo arrivati i secondi, tornati in Champions League e quindi alzare continuamente l'asticella per entrambi. Stefano Pioli che questa mattina è stato descritto molto bene secondo me dai colleghi autorevoli della Gazzetta allo Sport, è stato descritto con tre parole, è stato descritto come psicologo, come gestore e come valorizzatore e sono tre secondo me parole che lo descrivono al meglio ma che dovrebbero in qualche modo descrivere ogni allenatore, ogni persona che vuole intraprendere questo percorso. psicologo perché Stefano Pioli ha ereditato un Milan davvero molto debole psicologicamente, molto fragile, molto vulnerabile. Un Milan che ha ereditato da una situazione difficile che lo ha visto lui stesso in qualche modo guidare possiamo dire una barca in un mare davvero in tempesta perché ricordiamo che Pioli ha perso 5-0 con l'Atalanta e questa sconfitta in qualche modo ha fatto compattare l'ambiente, l'ha unito e lui come bravo psicologo in qualche modo ha trasmesso tranquillità, lui e chiaramente tutto il suo staff, ha lavorato con pacatezza, con professionalità e in qualche modo questa tranquillità che trasmette nelle interviste, nelle dichiarazioni viene percepita dalla squadra e viene apprezzata. Quindi grande psicologo e sappiamo tutti come nel calcio moderno i giocatori, in questi grandi staff, come se fosse ogni squadra come se fosse un piccolo gruppo di lavoro un piccolo grande gruppo di lavoro e quindi serve un gestore, un leader, ma non un leader semplice perché il leader è quello che in qualche modo viene, possiamo dire, è un po' più tecnico. In questo caso quando si parla di gruppi di persone, quando si parla di team, si parla di team leader e lui ha tutte quelle caratteristiche, quella voglia e quella conoscenza di saper coinvolgere gli altri, di saperli indirizzare verso un obiettivo, verso una meta e Stefano Pioli ha tutte queste grandi caratteristiche. Lui stesso ha confermato che durante la sua attività allenatore legge molto, che si documenta, che studia, che approfondisce tematiche legate alla leadership, legate alla, possiamo dire, alla crescita personale rivolta però agli altri e questa dote, questa competenza si vede che è stata acquisita al meglio dal nostro tecnico e dal suo staff. E poi ha la caratteristica più importante probabilmente per il fondo di lotto, ovvero valorizzatore. Valorizza e sa far crescere molto bene i giovani. Non ha paura di lanciarli, non ha paura in qualche modo a continuare a schierarli in campo e dargli fiducia, trasmettegli nuovi concetti, nuovi principi e in qualche modo tutti i risultati che stiamo vedendo, quindi col lavoro con Saleme Carey, il lavoro mentale, più che tecnico, che sta facendo con Raffaele A, Otto Mori, con la crescita importante di Calabria, la crescita di Teo Hernandez, la crescita di Ben Nasserdi, che si, di Brahim Diaz. Queste sono tutte doti che sono state apprezzate e continuano ad essere apprezzate dalla società. Quindi Milan deve per forza ripartire in una chiave di programmazione da un tecnico così completo, un tecnico che è psicologo, un tecnico che è gestore, un tecnico che è valorizzatore. E quindi quando parliamo di Stefano Pioli, quando parliamo di futuro di Milan, io voglio che Stefano Pioli venga prolungato, venga confermato, ma quei che siano quei cicli importanti di vittorie. Le vittorie passano dalla programmazione, dalla continuità del lavoro, delle persone e del suo staff, soprattutto se queste persone lavorano con grande professionalità e in qualche modo in un calcio sempre meno meritocratico, io mi auguro e mi auspico che un allenatore preparato, una bravissima persona, una persona a modo professionale, come Stefano Pioli possa essere e possa continuare a lavorare in tranquillità e soprattutto con condivisione di obiettivi e di idee con la società. Quindi il calciomercato, il futuro, deve passare assolutamente da questo uomo che dopo due anni ha riportato il Milan ad avere credibilità in Italia e in Europa. Non solo credibilità, ma anche e soprattutto rispetto, perché il Milan, che sicuramente ha beccato in qualche modo, ha incontrato, incontrerà, possiamo dire, due squadre di altissimo livello, diciamo anche tre perché il Porto è una squadra molto forte, sia il Liverpool, sia l'Atletico Madrid, sia il Porto, porteranno sicuramente grande rispetto per il Milan, sia per la sua storia, ma anche e soprattutto per il suo presente, presente, che è stato costruito da Stefano Pioli, dal suo staff e da tutto il gruppo giocatori. E come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi chiediamo di condividerlo, di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera, perché ogni giorno ci sono importanti news, curiosità e indiscrezioni legate al mondo Milan. Ciao a tutti e forza Milan! Ciao a tutti!